Davide Bennato, insomma ti chiedo di avvicinarti qua, professore di sociologia e dei medie digitali dell'Università di Catania, bentornato in qualche modo a Unividuo, il microfono sale e scende in qualche modo, ti lascio a te la parola, non a caso abbiamo voluto condividere prima del tuo intervento via Stories perché in qualche modo parlare delle nuove generazioni è qualcosa che fai piuttosto quotidianamente. Sì allora buongiorno, a me fa molto piacere essere oggi qui e quindi ringrazio Federico Bagnoli Rossi per avermi invitato e il Presidente Bernascoli per aver accettato che venissi oggi a parlare a voi perché secondo me è un momento anche per riflettere da un punto di vista sociologico in senso generale su quelli che sono stati gli interessantissimi dati di GFK e soprattutto di vedere fondamentalmente come stanno cambiando i consumatori di DVD, Blu-ray e tutti gli altri, diciamo così, oggetti mediali di cui Unividuo è rappresentante. Allora io ho deciso di chiamare questo mio breve speech, prometto che cerco di essere il meno noioso possibile, oggetti immaginativi perché secondo me può essere molto interessante vedere le cose di cui oggi noi stiamo parlando dal punto di vista di chi le fruisce, cioè che tipo di attribuzione di senso diremmo in alcuni contesti, che tipo di significato le persone attribuiscono nel momento in cui decidono di mettere un Blu-ray nel lettore, nel momento in cui decido di scegliere, di vedere una sequenza grazie all'opportunità di visione non lineare che permette il DVD e così via dicendo. Allora io cercherò di fare un discorso molto, molto, diciamo così, essenziale, che però prende le mosse da due elementi principali. Il primo sono le ricerche sull'audience audiovisiva contemporanea. Io sono uno studioso di linea digitale, mi capita spesso di confrontarmi con i miei studenti, ma anche con le ricerche che mi capita di fare con l'utilizzo del contenuto audiovisivo, dei contenuti digitali che vengono fruit, che vengono attraverso le diverse piattaforme e diverse opportunità soprattutto di accesso al mercato. L'altro aspetto ovviamente prende le mosse, non poteva essere altrimenti, da alcune delle risultanze molto interessanti del rapporto che il GFK ci ha mostrato precedentemente. Quindi il mio ragionamento fondamentalmente si attesterà su tre elementi cardine. Il primo è che cosa sono i DVD e i Blu-ray. So che può sembrare pleonastico, parli di queste cose, diciamo oggi qui a Univideo, ma dal punto di vista di cui acquista e chi fruisce soprattutto questa tipologia di prodotti, le cose non sono così semplici come potrebbero sembrare. Poi farò un brevissimo escurso su quella che ho chiamato la cultura dell'immaginazione, cioè come facciamo noi nel momento in cui vogliamo accedere alle storie che ci piacciono. Quindi sono assolutamente felice di parlare dopo la campagna We Are Stories di FAPA, perché effettivamente noi siamo storie, noi produciamo storie e noi consumiamo storie. E poi cerco di fare su questa base una rapidissima incursione nel futuro. Quindi cercherò, diciamo così, di usare delle parole chiave per capire come sta andando configurandosi in maniera completamente nuova, grazie anche all'effetto catalizzatore della pandemia, perché la pandemia, diciamolo bene, non ha stravolto il mercato, ha accelerato delle dinamiche che stavano comunque cominciando a prendere piede. E quindi già erano presenti, se non nel mercato, come segnali deboli, sicuramente nei comportamenti d'acquisto di consumo. Allora, comincio assolutamente con una, diciamo così, con una cosa molto semplice. Cosa sono i DVD e Blu-ray? Lo so che può sembrare plonastico, mi rendo conto. Cioè parliamo delle cose banali. E io sono dell'avviso che più le domande, come capita per i bambini, no, più le domande sono semplici, più è difficile dare una risposta semplice. Perché viviamo? Perché nasciamo? Perché guardiamo i film? Non è una... sono domande semplici nel momento in cui le fai, ma le risposte non lo sono mai. E questo vale anche per i DVD e Blu-ray. Cosa sono da un punto di vista dei consumatori? Allora, non sono degli oggetti. Cioè il fatto che siano oggetti fisici, il fatto che siano un click in uno streaming, il fatto che siano un momento di acquisto da punto di vista del transazionale, è assolutamente circostanziale. Nessuno compra un libro perché è carta rilegata. Nessuno va al cinema perché ci sono solamente delle poltrone comode. E nessuno compra un DVD o un Blu-ray perché è un DVD o un Blu-ray. Tutti vogliamo accedere a quel contenuto. Quindi la cosa più forte che caratterizza i DVD e i Blu-ray è che sono strumenti di accesso a mondi narrativi. Cioè sono dei posti con cui noi entriamo nelle storie, entriamo in racconti. Non è un caso che io abbia scelto l'immagine, una delle immagini più belle di Don Quixote della Mancia. Così come Don Quixote della Mancia entrava nel suo mondo immaginario utilizzando i libri e scambiando la realtà con l'immaginazione, anche le persone che decidono di acquistare questa tipologia di prodotti lo fanno perché vogliono entrare dentro le storie, vogliono possedere le storie. Non solo, questa tipologia di prodotti, DVD e Blu-ray, sono strumenti di accesso a universi dell'immaginazione, mondi narrativi, universi di immaginazione. La banalità si dice che le storie servono per sognare, ma è una banalità solo parziale. In realtà le storie servono anche per capire, servono per comprendere. Per comprendere e per comprenderci. L'immagine che ho usato per descrivere questo concetto è la biblioteca tessarato del film Interstellar di Nolan, che secondo me dal punto di vista dell'immaginario è quella che rende meglio cos'è una libreria, cos'è una biblioteca personale per una persona. non è una sequenza di libri. Se noi siamo appassionati di libri, se abbiamo una biblioteca in casa, non è una sequenza di cose che mettiamo su uno scaffale. Per noi è un universo quadridimensionale con cui noi entriamo in storie, racconti, narrazioni e conoscenze. E questo vale anche per i DVD, per i Blu-ray, per il transazionale e per lo streaming. Non sono oggetti semplicemente per accedere ad un mercato, sono oggetti per accedere all'immaginazione, per dare forma alla nostra immaginazione. Banalmente, e solo retoricamente uso questa parola, DVD e Blu-ray sono portali. Permettetemi, sono appassionati di fantascienza, sono Stargate. Se ci sono appassionati di Harry Potter, sono passaporta. Cioè sono degli oggetti che servono fondamentalmente per entrare nei mondi immaginativi che adoriamo. Da questo punto di vista, ovviamente, le cose si fanno più articolate. Perché nel momento in cui siamo d'accordo sul fatto che il DVD e il Blu-ray, il transazionale e lo streaming diventano elementi con cui accediamo ai nostri mondi immaginativi, ovviamente ci sono delle caratteristiche specifiche dell'immaginazione, della cultura dell'immaginazione. Non è una cosa banale, per esempio, dire vediamo se riesco a scambiare la slide, che l'immaginario è un intrattenimento. Allora, c'è una cosa su cui a me mi innervosisce moltissimo, diciamoci da appassionato di storie, da appassionato di cinema, quando si confonde la fruizione di una narrazione con l'intrattenimento. Cioè, l'intrattenimento è la parte superficiale, è la punta dell'iceberg, ma non è la cosa più interessante. Nessuno legge fumetti, ho fatto il caso veramente classico, nessuno legge fumetti perché si vuole intrattenere o semplicemente per intrattenersi. Noi leggiamo storie, leggiamo romanzi, vediamo film, perché abbiamo bisogno di comprendere, abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno di conoscere. L'immaginario, per esempio, è una realtà alternativa. Quanti di noi usano i film che amano per cercare di entrare in mondi che magari gli sono preclusi? Entrare dentro Hogwarts, tanto per fare un caso classico, entrare dentro un'astronave di Star Trek. Cioè, perché usiamo questi strumenti? Perché vogliamo, con l'immaginario, noi entriamo in una realtà alternativa. In realtà alternativa, però, non vuol dire che noi non stiamo partecipando al mondo circostante. Noi siamo anche l'immaginario per capire il mondo circostante. Non è un caso che alcuni dei film che venivano, diciamo così, più fruiti durante il periodo della pandemia erano film sugli zombie. Che diavolo centrano i zombie sulla pandemia? Perché gli zombie sono la rappresentazione horror di un'epidemia, è ovvio. Sono una malattia gli zombie. Questa cosa ci fa capire che le persone hanno bisogno anche di capire il mondo che gli sta intorno, utilizzando l'immaginazione. L'immaginario, per esempio, è uno strumento per accedere a mondi. Si fa un gran parlare, per esempio, in questi ultimi tempi, del metaverso, come giusto che sia. Sarà la prossima frontiera, non è ben chiaro cosa sia. Ci sono degli elementi legati al mondo dei videogiochi, ma non si risolve solo il mondo dei videogiochi. Ma, secondo me, una delle migliori rappresentazioni di cosa potrebbe essere un metaverso, lo ha fatto Spielberg con Ready Player One. Perché? Perché lì il problema era rappresentare un mondo tridimensionale, però che è popolato dell'immaginario che le persone consumano, dei robot degli anni Ottanta. In questo caso ho messo uno dei miei, mi sono appassionato di manga, Gundam, del fatto dei videogiochi. Cioè, la difficoltà è rentare in un metaverso in cui in realtà i prodotti dell'immaginario immaginario sono prodotti dell'immaginazione. Questo fa capire che l'immaginario vuol dire fondamentalmente accedere a mondi. Un DVD, un Blu-ray, l'acquisto di un click nel Transational o una fruizione di una serie in streaming, in realtà vuol dire entrare in un mondo, entrare in un universo, farci accompagnare in un percorso. Questa è una cosa banale, ma credo che ci accomuna tutti. Quanti di noi ci dispiace nel profondo quando finisce la nostra serie preferita. Cioè, quando... Non la viviamo bene, vabbè, è finita, chi se ne importa. La viviamo come una mancanza, come qualcosa che non ci accompagnerà più quotidianamente. Questo vuol dire fondamentalmente che l'immaginario è molto più serio di quanto siamo risposti ad ammettere. Allora, una delle cose che a me, diciamo così, affascina moltissimo, sono i micro-rituali che ognuno di noi mette in campo ogni volta che deve vedere il suo film preferito o la sua serie preferita. Quando io devo vedere qualcosa velocemente che sono curioso sul telefonino, ma se c'è la mia serie telefinita, che io adoro, tipo Doctor House, tanto per dirne uno, oppure qualche spin-off di Law & Order, io non posso vederlo sull'iPad. Io devo avere la poltrona, io devo avere, aver preso il mio caffè. Non è una cosa banale. Quando noi ritualizziamo una fruizione di immaginario, in realtà non stiamo semplicemente dandoci, come si dice adesso, in un concetto tipo di marketing esperienziale, delle coccole, cosa che io, diciamo così, termine che io aborro da questo punto, così applicato. Ma in realtà noi stiamo ritualizzando perché entrare nell'immaginazione è una cosa tremendamente seria. vivere con il nostro protagonista, vivere con la nostra storia, seguire l'evoluzione di una storia, è una cosa tremendamente seria. Non è intrattenimento, è qualcosa di più profondo. Da questo punto di vista, come si va configurandosi il mercato del futuro? Perché ovviamente vediamo il punto di vista delle nuove generazioni di consumatori. il mercato del futuro sarà molto più, diciamo così, difficile da comprendere perché le persone non consumano per, diciamo così, linee produttive, consumano per storie. Se la mia storia si trova in una maglietta, in un videogioco, in un fumetto, in un DVD, in un trassazionario, in uno streaming, io accederò alla mia storia in ognuno di questi punti diversi. Per me non c'è soluzione di continuità. Come sarà il futuro? Il futuro, per esempio, una delle parole con cui dovremmo cominciare a fare i conti è fandom. Il futuro, i consumatori del futuro ci sarà un universo fandomico. Non potevo non usare una foto con me in mezzo dei cosplay. Io sono stato per tre anni il responsabile della comunicazione social di Etna Comics, che è la mostra più importante di cultura pop che c'è in Sardegna. Sicilia è la terza in Italia per dimensione. È una cosa di cui di solito vado molto fiero. Da semplice utente di queste cose sono diventato per tre anni responsabile delle comunicazioni e mi sono divertito come un pazzo, come potete vedere dal contributo video che ho fornito. Il futuro è fandomico perché? Perché il fandom può essere interessante per comprendere come stanno andando modificandosi i consumi? Perché noi tutti siamo appassionati di qualcosa, di una serie, di una storia, di un contesto, di una vicenda e noi di quelle roba vogliamo saperle tanto, sempre di più. Abbiamo voglia di sapere sempre di più di quel mondo. Io sono appassionato dei noir ambientati nelle aule di tribunale. Qualunque volta ci sia un film, una serie, io sono appassionato di Law & Order, di tutti gli spin-off di Law & Order. Io non riesco a farne a meno, come quasi un drogato va alla ricerca della sua dose di immaginazione, di immaginario possibile con cui può fruire. Il futuro va in questa direzione. Il fandom, cioè quello strano mondo di appassionati che collezionano, guardano, poi nella versione, diciamo così, hardcore, si vestono anche come i propri benamini, è sintomatico di un rapporto molto intimo, molto personale che non abbiamo con le storie. è la controparte del ragionamento che facevo prima. Un'altra cosa interessante del mercato del futuro è che è emotivo. Ve le ricordate le segmentazioni di marketing? Ecco, le segmentazioni di marketing valgono solo per pianificare un mercato, ma non definiscono il consumatore. Fatemela dire in un modo ancora più pop. Una delle cose che ho imparato proprio frequentando FAPAV a partire dal 2007, quando abbiamo cominciato a collaborare, quando io facevo il direttore di ricerca per la Fondazione Nati per una delle ricerche proprio sul file sharing, una delle cose che abbiamo scoperto è che in realtà le persone, se tu gli dai la possibilità di posizionarsi, cioè di acquistare lo stesso prodotto in maniera molto diversa, le persone si posizionano. La dico in un altro modo. Se io sono un amante di un particolare film con un particolare effetto speciale, io di quel film non voglio solamente il DVD, io voglio il Blu-ray, lo voglio altissima di rifinzione e voglio i commenti. Ma se io di un film ho un legame un po' più lasco, a me basta semplicemente lo streaming, cioè poterlo fruire una volta ogni tanto in maniera sincrona. Ma se io sono un appassionato, io di quel prodotto voglio il director's cut, la storia, la possibilità di accedere in maniera delocalizzata con i capitoli, voglio gli approfondimenti, voglio tutti i trailer di qualunque mercato nazionale e internazionale che esistano, voglio tutto. se voi ci fate caso, questo tipo di atteggiamento non è l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di un film, ma che abbiamo nei confronti di un libro. Un libro, quando ti piace il libro, soprattutto della saggistica per esempio, tu vuoi avere la bibliografia, vuoi avere l'approfondimento, vuoi avere il commento, quando ci piace un romanzo, un romanzo classico, perché rileggiamo i classici che vengono ritradotti? Per ritrovare un linguaggio nuovo, per vedere come è cambiato anche la sensibilità, anche per confrontarci con un prodotto diverso. Questo vuol dire che esistono consumatori che sono disposti per lo stesso identico prodotto a pagare più volte. Io ho scoperto film in DVD presi su bancarelle di cui poi ho preteso di acquistare la versione ad altissima definizione. Infatti mi trovo con la mia libreria che è duplicata tipo due o tre volte perché poi non mi sono più trattenuto. La segmentazione che le persone hanno nei confronti dei prodotti è una segmentazione emotiva. Se tu hai un rapporto con un contenuto quel contenuto lo declini in maniera completamente diversa. E fatemela dire anche in maniera molto pop. Dal punto di vista del consumatore cioè un pirata è semplicemente un segmento che non ce l'ha fatta. Se io decido di diventare pirata cioè di scaricare legalmente un prodotto lo faccio molto spesso perché non ho trovato la possibilità di posizionarmi nel mercato. Anche perché che non sono mutualmente esclusivi cioè il tempo che si perde per cercare un prodotto negli spazi digitali in maniera illegale è infinito. I ragazzi non sono più disposti a perdere tempo sono disposti a mettere a parte i soldi e acquistare la versione semplificata di un DVD o di un Blu-ray. Le segmentazioni non è più sulla base economica sulla base emotiva. Inoltre è convergente. Quando di solito si parla di convergenza nell'ambito audiovisuale si parla di convergenza di piattaforme di contenuti invece qua la convergenza di storie. Se io la storia posso accedervi sotto forma di merchandising sotto forma di film all'insala sotto forma di DVD sotto forma di cofanetto perché voglio la versione deluxe sotto forma di videogioco io prima di andare a vedere Matrix ho rigiocato ai vecchi giochi di diciamo le vecchie distribuzioni di Matrix che c'erano state proprio per rientrare nel meccanismo narrativo. Questo vuol dire che la convergenza non è più di piattaforme è di storie. Le persone non consumano piattaforme consumano storie. Se la storia è presente sotto forma di fumetto e sono amanti di quel fumetto leggono il fumetto. Se la storia è un DVD è un DVD io per esempio continuo ancora a vedere sulle piattaforme streaming di cui sono abbonato le stesse cose che un DVD che sembra un paradosso se ce l'hai te lo vedi no ma lo streaming in quel momento che ce l'hai davanti che ti pone per l'ennesima volta il watchman davanti agli occhi e io ce l'ho in versioni cofanetto in diverse mode non resisto clicco e smetto di scegliere e vado sui miei affetti. Chiudo la mia intervento con questa frase di Schopenhauer la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro fogli di uno stesso libro leggerli in ordine e vivere sfogliarli a caso e sognare l'audiovisivo soprattutto l'audiovisivo asincrono i dvd i blu-ray lo streaming il transactional hanno proprio questo ruolo fondamentalmente quello di permetterci di sognare perché possiamo entrarci in maniera assolutamente casuale vi ringrazio per la vostra attenzione grazie grazie Davide grazie per la tua passione soprattutto grazie per aver citato Gundam ma quello è un altro discorso andiamo diciamo verso le conclusine grazie per aver guardato grazie per aver guardato grazie per aver guardato